Siamo di nuovo in diretta, tra poco vedrete la registrazione della rassegna stampa delle 7.30. Siamo in diretta alle 8.18 perché mentre eravamo in onda è arrivata la notizia, una brutta notizia, che riguarda il mondo del giornalismo locale. La morte di un storico corrispondente del resto del Carlino di Fano. La morte di un giornalista che tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere, di apprezzare, di stimare, anche di criticare a volte. Ma oggi lo ricordiamo perché è arrivata la notizia purtroppo della sua morte. Sto parlando del giornalista Carlo Moscelli. Carlo Moscelli che da quello che abbiamo appreso, ma sono le prime notizie, poi cercheremo nel corso della giornata di capire un po' di più. Ma per quanto ci sia qualcosa da capire quando si parla di morte, ma comunque Carlo Moscelli che dopo tanta sofferenza, dopo una lunga malattia ci ha lasciati. E ci ha lasciati, presumo, nella serata, nella nottata o comunque nella giornata di ieri. E già, come spesso accade in questi casi, sui social network ci sono le prime testimonianze, i primi attestati di affetto, di condoglianze, anche e soprattutto nei confronti della famiglia, dei figli in particolare. Corrado sta seguendo egregiamente le orme del suo papà. Lo ricordiamo anche noi, ripeto, in pochi minuti. La notizia l'abbiamo appresa poco fa. Abbiamo già pubblicato su internet e sulla pagina di Occhio alla Notizia, che è il nostro sito, il nostro portale, la foto di Carlo di qualche anno fa. Eccolo qui. Carlo Moscelli. La notizia della morte di Carlo lascia senza parole, per quanto la morte sia un passaggio naturale a cui tutti siamo destinati, quando bussa alla porta e si porta via qualcuno che conosce e ti lascia sempre un senso profondo di smarrimento e di dolore. Carlo Moscelli non ha bisogno di essere raccontato. Tutti noi, almeno quelli della mia età, quelli che hanno una 45-46 anni, tutti noi abbiamo un aneddoto, un ricordo, un episodio legato alla sua persona. Carlo ha raccontato la storia della città per decenni, sia alla radio che al giornale per il quale lavorava da corrispondente, il resto del Carlino. Sapere che da oggi non è più tra noi, almeno fisicamente, lascia un vuoto, un grande vuoto. Grazie Carlo. Qui ho scritto una cosa personale, perché quando mi sono messo in testa che volevo fare il giornalista, ho subito guardato a te come modello. Avrei pagine di cose da scrivere, ma preferisco custodirle nel mio cuore, come tesoro prezioso. Hai fondato Telefano negli anni 70, hai seguito fino a poco fa, fino a qualche giorno fa, forse fino a ieri, Fano TV. Spero almeno che ti sia piaciuta. La tua amata Fano, i fanesi, ti ricorderanno con affetto. E noi, noi tutti di Fano TV, insieme a loro. Buon viaggio Carlo, grazie. E niente, c'è la rassegna stampa, quella che abbiamo registrato alle 7.30. Grazie per essere stati con noi, adesso c'è il resto della rassegna stampa, stasera il telegiornale. Oggi è Santirineo di Lione, è stato un vescovo, il sole è sorto alle 5.27, tramonterà alle 20.55 minuti. Il tempo, oggi avremo cielo poco o irregolarmente nuvoloso per transito di nuvole in ingresso dal mare e maggiori addensamenti però nelle zone interne, soprattutto nelle ore centrali. Avremo nel pomeriggio ancora qualche possibilità di breve isolato piovasco nelle zone montane, in particolare nei Monti Sibillini, quindi la parte meridionale della regione Marche. I venti, questi venti che continuano a soffiare da nord, occidentali di brezza tesa nelle zone interne, di vento moderato lungo la fascia costiera con raffiche di vento fino a vento fresco. Anche ieri sera, insomma, è stata una serata piuttosto fresca, non certo da fine giugno. Domani, venerdì 29, avremo cielo sereno poco nuvoloso, più o meno a fotocoppie di oggi, con meno nuvole in effetti, soltanto nel pomeriggio avremo ancora un po' di pioggia sui monti nel sud della regione, mentre la giornata di sabato si presenta serena o comunque poco nuvolosa soltanto nell'entroterra. Per il resto avremo sole splendente su tutta la costa, ancora venti di brezza tesa settentrionali in rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio, quindi diventerà più caldo nel pomeriggio. E allora indicazioni di tempo stabile anche per domenica e l'inizio della prossima settimana, soltanto qualche incertezza nel tempo nella parte interna della regione all'inizio della prossima settimana, ma tutto sommato, insomma, avremo il sole per chi ha deciso di trascorrere le vacanze nella nostra splendida regione. Regione, la regione Marche, con tante belle spiagge e con tanta bella gente accogliente. Ben arrivati cari turisti, se siete nella nostra terra. E allora andiamo a vedere i giornali. Il resto del Carlino, a malincuore, ma l'ho dovuto fare sto abbonamento, che devo fare? Quindi l'abbiamo fatto e il Corriere Adriatico. Allora, ecco qua il Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, transenne infiltrazioni, si parla dei guai infiniti del Tribunale. Il Tribunale di Pesaro, che ha qualche problemino strutturale, si è seccato persino il giardino interno. Lunedì la prima tranche di lavori, ma a centro pagina la notizia è di sport. Purtroppo lo sport pesarese perde il volley femminile. E soprattutto un volley di alto livello, perché gioca in A1. Cala il sipario sulla Maicicero. A sorpresa scompare il volley. Perché? Perché il club pesarese rinuncia all'iscrizione alla Serie A1, può ripartire dalla B1, questione chiaramente di soldi. E adesso la politica invece. La politica che sta facendo discutere, soprattutto tra chi la politica la fa, l'exploit della Lega e non solo il tracollo del PD, si discute, il prossimo anno si vota a Pesaro, a Fano per le amministrative. Insomma, questo è il titolo. Prenderemo Pesaro e Fano. La Lega si presenta e lancia la sfida ai sindaci ricci di Pesaro e Seri di Fano. La Lega, tra l'altro, porta a Pontida, e questa già è una notizia clamorosa, più di 150 persone dalla provincia di Pesaro e Urbino e appunto lancia la sfida ai due sindaci ancora in carica di Pesaro e Fano. Il prossimo anno, dicono quelli della Lega, vinciamo noi le elezioni comunali. Nel capoluogo proporremo un candidato sindaco della società civile. Dicevamo, c'è entusiasmo per questo raduno di Pontida, sono attese più di 50 mila persone, con 200 giornalisti accreditati, il doppio praticamente rispetto all'anno scorso, e molti provenienti dall'estero. A dimostrazione dell'interesse della Lega che si è diffuso oltre confine. Ma tornando alla Lega di casa nostra e al centro-destra, dicono che il nostro obiettivo è quello di presentarci alle comunali per vincere e non per partecipare a Pesaro, Fano e Urbino. Oltre agli altri comuni più piccoli. A Pesaro il coordinatore comunale della Lega Giovanni Dall'Asta, organizzato ieri sera a Baia Flaminia una riunione con Forza Italia, Fratelli d'Italia, e parte centrista dell'attuale opposizione. E il candidato sindaco, per quanto riguarda Pesaro, dice che ogni partito del centro-destra proporrà il proprio. E troveremo una sintesi, dice ancora Dall'Asta. Mentre a Fano, Massimo Mec, che è il coordinatore cittadino della Lega, dice che c'è un incontro in programma nei prossimi giorni anche a Fano, per creare un gruppo di lavoro che conquisti il Comune per risollevarlo dopo il periodo traumatico del post-Aguzzi. E adesso la pagina, sempre di peso del provincia, pagina 7 del Corriere Adriatico. Qui si parla di un concorso. Marche Nord assume 5 nuovi dirigenti. Tra questi c'è la portavoce di Ceriscioli, Talà Savona, che vedete in questa immagine qui a sinistra, mentre la direttore generale di azienda Marche Nord, Maria Capalbo, qui a sinistra, entreranno in servizio all'ufficio Relazioni con il pubblico. E c'è anche la graduatoria con i punteggi di chi ha visto. Il concorso è stato indetto per un solo posto, ma ha permesso di identificare una graduatoria a cui l'azienda Marche Nord ha attinto fino ai primi 5 classificati. Vincitrice del concorso, la giornalista Loretta Signoretti, da quasi 10 anni impegnata all'ufficio Relazioni con il pubblico con un contratto a tempo determinato. Il contratto invece che i nuovi 5 dirigenti stipuleranno è a tempo indeterminato e avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio. Chi sono questi 5? Lo trovate sul giornale in edicola oggi del Corriere Adriatico. Mentre la cronaca dalle Marche, da Civita 9, infastidisce una 14enne al mare cerca di sfilarle il costume messo in fuga dalla ragazzina. Parliamo di un episodio che è avvenuto nei giorni scorsi che vede protagonista un uomo sui 30-35 anni che a un certo punto ha avvicinato, si è avvicinato a questa ragazzina di 14 anni in bichini, che stava facendo il bagno al mare, l'ha infastidita con insistenza e poi ha cercato di toglierle il pezzo superiore del costume. E' stata lei la vittima, appunto questa 14enne, a chiamare i carabinieri. Ma nel frattempo il molestatore era già uccell di busco. Restiamo in spiaggia. Per gli abusivi sarà un'estate, ammesso che l'estate ci sarà, perché messa così è un po' difficile, ma comunque quel che ci sarà dell'estate per gli abusivi sarà un problema. Perché? Perché i sindaci hanno deciso di adottare la tolleranza zero, il pugno di ferro, che diventa tra l'altro bipartisan, cioè a prescindere che sia un sindaco di destra o di sinistra, vale anche perché poi tra l'altro ad aprire, come dire, questo filone del pugno di ferro, questa cosa è stata proprio Pesaro, che insomma Ricci non è propriamente di destra, insomma. Quindi in spiaggia, per esempio a Pesaro, solo venditori di pezzette di frutta, entro luglio ci sarà questo nuovo regolamento, del commercio che limita le attività ambulanti. A Senigallia invece, per esempio, gli autorizzati hanno il cartellino con il nome e la targa nel carretto. Insomma, una task force delle forze dell'ordine a Civitanova, Porto Potenza, che invece resta l'unica isola felice. Insomma, questo è quello che succederà nelle spiagge dal punto di vista della mercanzia e quindi per gli affari sotto l'ombrellone. Mentre la pagina di Fano, giardini in condizioni pietose, la rivolta delle mamme di Fenile, tre spazi verdi lasciati in abbandono e giochi mai sostituiti. Il sindaco dice, già individuata la ditta che effettuerà i lavori. E a proposito di vandalismi, ecco qua come hanno ridotto la rete della pista di patinaggio a Lido di Fano. È stata danneggiata in pieno giorno la recinzione installata di recente. L'altra pagina di Fano del Corriere Adriatico, colpito da un sasso mentre pedala sulla ciclabile, quella che costeggia la ferrovia, la Fano-Pesero per l'appunto, la piccola pietra sparata dal treno in corsa. I 5 Stelle chiedono ora se quella pista, quel tratto sia sicuro oppure no. Dicevamo del Tribunale a Pesero che, insomma, fa acqua un po' da tutte le parti. Piove dentro e rischio di stacchi. Palazzo di giustizia, quanti guai. Avvocati in sciopero per solidarietà con i colleghi baresi, ma anche localmente le criticità non mancano. Si è pure seccato il giardino interno, nessuno ha cambiato le pile per alimentare il sistema di irrigazione. L'unica nota positiva è che partono i lavori contro le infiltrazioni. Il Presidente dell'Ordine dice che la questione di Lizia ci sta a cuore. Tre anni di esami. E questa è una bella diatriba. Guardate questa fotografia. La maiolica. Questa maiolica qui è attribuita niente meno che a Leonardo da Vinci. Ieri il Corriere Adriatico aveva pubblicato la notizia della dichiarazione del perito d'arte Federico Malaventura su questa maiolica accreditata a Leonardo da Vinci, ritenuta però dal pesarese esperto di ceramiche, una bufala come coloro che si limitano a visionare però solo le immagini fotografiche, dice invece Ernesto Solari, insieme alla professoressa, alla dottoressa Ivana Rosa, che invece, Ivana Rosa Bonfantino, che invece insistono e dicono no, guardate che noi abbiamo tre anni di esami, ci sono 6.000 documenti, la maiolica è di Leonardo, ci sono analisi critiche, non possiamo fare un discorso da bar soltanto perché uno ha guardato e ha visto la foto. È interessante quest'articolo. Leggetelo tutto, è interessante perché si capiscono e si scoprono alcune cose. Mentre, tornando alle cose più terra-terra, andiamo, anzi, mare-mare, perché questo è il Sunset Island, tutti i gonfiabili che verranno, si stanno preparando, si stanno sistemando all'interno di Villa Marina e andranno messi in acqua, tempo permettendo, credo sabato, sì, sabato si apre. Tour de Force per installare questo parco acquatico a Pesaro, nonostante il mare mosso, Sport Village confida nelle previsioni meteo, ce la faremo, definite tariffe, ingresso e formule. 10 euro all'ora. Allora, Senigallia. Senigallia ha centro blindato invece per il Caterrad 1. Caterrad 1 è un programma radiofonico, parliamo di Radio 2, è un programma radiofonico che tutti gli anni va in onda dalla città di Velluto. Il centro sarà blindato a Senigallia per questo Caterrad 1, se vuoi un gelato paghi il concerto. Zona rossa protetta da blocchi di cemento, domani sera entra solo chi ha il biglietto per i Negrita. Barriere sul ponte, 2 giugno per impedire di seguire gratuitamente lo show musicale. Coltello puntato, rapina nella sala giochi, due banditi entrano nel G-Planet in via Sanzio e fuggono con 520 euro. Dalla Valle Cesano, sempre il Corriere Adriatico, con il riciclo avanti tutta, siamo a Pergola, via a Barbanti e Cartoceto di Pergola. Si parte con il secco indifferenziato e anche con l'organico, a disposizione anche le compostiere. L'albero della gioia invece saluta l'estate e i turisti, ecco l'installazione dei bambini della scuola di infanzia, l'Aquilone, che richiama un po' l'albero dell'Expo milanese. Valle Foglia, sicurezza, viabilità, luce, parchi, siamo a Mondolfo, operazione trasparenza nel dettaglio, gli investimenti stanziati nell'ultimo Consiglio Comunale e poi il resto del Carlino, la pagina di Pesaro, che apre con questo bagnino un po' disorientato, sta cercando i turisti, dice dove siete turisti? Giugno infatti è stato un mese da cancellare, un mese da pianto per le presenze, insomma per i turisti, le previsioni di luglio non rassicurano, meno male che sabato apre il parco acquatico e vedremo, insomma, non dimentichiamoci che c'è l'acqua a 10 minuti, per cui, insomma, adesso non credo ci sarà la ressa, poi non lo so, magari vorrei che la novità attira sempre. Sei bagnini rischiano la vita per salvare padre e due sorelline, a Fano la tramontana stava trascinando via la famigliola, il drammatico racconto dei soccorritori, quando tutti erano già in riva, noi non riuscivamo a rientrare, remo rotto e pattino contro gli scogli, anche qui un po' come in montagna, bisogna conoscere i venti, le correnti, non è che si entra in acqua così come se fosse il bagno di casa, il mare è come la montagna, bisogna conoscerli, se non si conoscono, i turisti stiano tranquilli a riva, facciano il bagnetto dove toccano la punta del piede sulla sabbia, sul fondale e tutti siamo tranquilli. Addio al grande volley, Pesaro non si iscriva al campionato di A1, sport senza risorse. E poi c'è questa, in Nazionale, la notizia di questo, l'intervista a questo albanese, che dice, io in Albania non vivevo più, così ho scelto il carcere qui, i miei figli mi danno la forza di andare in cella. Ancora pagina del resto del Carlino, qui il Carlino questa mattina si occupa della possibilità di trasferire gli uffici della Questura nell'ex Intendenza di Finanza, una decisione che se verrà presa, provocherà tanti malumori nella città di Pesaro, soprattutto per chi lì ha i negozi. E allora, i negozianti sono pronti alle barricate, i lavori ci costringeranno a chiudere, ecco perché non vogliono che la Questura vada dove un tempo c'è l'Intendenza di Finanza. Si prevedono due anni di lavori e le attività saranno trasferite in piazza. C'è chi ha investito dei soldi, giustamente dice, io che fine farò? Grande folla sul carroccio dei vincitori, da Pesaro due pullman per Pontida, dalla provincia in 150 per il riaduno del primo di luglio, dalla regione invece partiranno 300 nuovi leghisti. Per essere lì alle 9.30, molti partiranno nel cuore della notte. Costretta ad un viaggio, e qui siamo a Caglie, parliamo di sanità, costretta ad un viaggio di 60 chilometri per poter fare la flebo, denuncia dell'ex consigliere Donini. Ninel Donini, che denuncia un fatto accaduto negli ultimi giorni, una persona che è di Caglie, ultra settantenne, da qualche giorno aveva dolori per un calcolo ai reni. All'inizio gli antidolorifici, poi la persona ha dovuto fare queste flebo, però siccome non può essere applicata una flebo nell'ospedale di Caglie, perché è un ospedale di comunità, ha dovuto fare 60 chilometri per andare a fare questa flebo. Poi, da Fossombrone, invece, Ictus, dopo l'incontro con il sindaco, chiama da sé i soccorsi e si salva. È accaduto, e questo è il dramma che ha lieto fine, al presidente della Croce Rossa, Claudio Contini, 64 anni, ora ricoverato all'ospedale di Fano. Da Urbino, invece, sempre politica, sindaco, il PD ha scelto Antonio Bisciari, da tutti conosciuto come Antonello, per le elezioni amministrative del 2019. Dunque sarà lui, Antonello Bisciari, il candidato del Partito Democratico alle prossime amministrative di Urbino. Fano, colpito da un sasso schizzato dal treno, ferito un uomo che transitava sulla pista ciclabile, e poi sotto centrodestra a trazione Lega e il Movimento 5 Stelle è già pronto al voto. Di certo c'è soltanto che i 5 Stelle candideranno Marta Ruggeri, ma hanno già la lista pronta dei 24 candidati, si aspetta solo la certificazione da Milano, che i grillini sperano arrivi il più presto possibile. Poi, una volta arrivati, addirittura i grillini presenteranno anche la squadra di governo, cioè diranno chi saranno, se vinceranno, gli assessori e la squadra di giunta. Chiudiamo con l'epilogo amaro per il volley pesarese. Questo è il titolo del resto del Carlino, la pagina di Sport. Pesero non si iscrive alla 1. Il comunicato della società, grande rammarico, immenso dolore. Noi ci fermiamo qui. La rassegna stampa, occhio ai giornali, è finita. Ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale. Occhio alla notizia. Se avete segnalazioni, questo è il numero da segnare sul vostro cellulare. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata a tutti.